caduto l'impero napoleonico le grandi potenze europee si riuniscono a vienna per decidere il da farsi terminato il congresso nel 1815 l'italia divisa in vari regni educati si ritrova sotto il dominio sotto l'influenza austriaca e questo crea un senso di malessere di inquietudine tra tutte le persone immediatamente il re di napoli gioachino miurà dichiara guerra all'austria sperando nel supporto degli altri regni degli altri educati fomentandoli con l'idea di unirsi per combattere l'oppressione austriaca di unirsi di creare un paese unito e indipendente miurà viene sconfitto così come gli altri focolai che nascono un po ovunque ma vengono immediatamente sedati dagli austriaci però questo accoramento promosso dal re di napoli smuove un sentimento forse da troppo tempo sopito di ribellione di indipendenza insomma di libertà che a poco a si diffonde in tutti i regni in tutti i ducati italiani e comincia il risorgimento cominciano i moti rivoluzionari della carboneria della giovane italia le guerre di indipendenza fino ad arrivare poi al 1861 al 17 marzo con l'unità d'italia e in questo contesto storico fatto di lotte tumulti inquietudini ma anche speranze si diffonde in europa il romanticismo ovvero si diffonde l'idea di mettere al primo posto le emozioni i sentimenti e questo è perfetto in italia per esprimere quel sentimento patriottico che stava diventando sempre più forte ovviamente non è che diventa una tematica esclusiva ma attenzione in italia c'è la censura austriaca bisogna fare i conti con la censura quindi non è che si può diffondere così facilmente messaggi sovversivi o di indipendenza e quindi gli artisti nascondono nelle loro opere d'arte dei messaggi velati per raccontare tutto quello che succede intorno a loro ovviamente così come lo provano così come lo vivono con le loro emozioni e come fanno raccontano il loro presente affidandosi al passato affidandosi al medioevo che viene visto come un periodo di splendore un periodo di armonia di pace francesco hayez è uno dei grandi interpreti di questo di queste angosce di questo coraggio degli italiani del periodo del risorgimento e nel 1859 quando milano viene liberata dal dominio austriaco grazie all'unione delle truppe di vittorio emanuele secondo e di napoleone terzo quindi grazie agli accordi di plombier hayez dipinge due giovani due giovani innamorati che si baciano con passione con ardore e questo dipinto destra immediatamente un grande scalpore ma non soltanto per la tematica coinvolgente ma anche per e soprattutto forse per quel messaggio velato patriottico che viene colto dai più soprattutto con l'utilizzo dai colori che utilizza hayez all'interno di questo dipinto e quindi viene colto quell'abbraccio tra la francia e l'italia che ha permesso poi di arrivare all'unità nazionale questo dipinto diventa la celebrazione dell'amore dell'amor patriottico dell'amore della patria e diventa il manifesto del romanticismo italiano un dipinto che ancora oggi se noi ci mettiamo davanti lo osserviamo con attenzione con con silenzio ci tocca le nostre corde più intime più profonde ci provoca delle emozioni dei ricordi ovviamente sto parlando del bacio grazie a tutti in uno spoglio scenario medievale forse nel cortile di un castello nel cortile di un palazzo oppure sul sagrato di una chiesa in un'ambientazione sognante sospesa da un lato c'è un giovane con i capelli lunghi mossi alla maniera alla moda veneta e quindi aiaz in questo caso ci fa capire che nonostante la sua formazione artistica a roma sotto la guida di canova di antonio canova una guida neoclassica ricorda i suoi le sue origini maestri della sua terra di origine ovvero giovanni bellini giorgione non soltanto nella creazione di questa ambientazione dolcemente malinconica ma proprio anche nell'utilizzo dei colori accesi noi non vediamo il volto di questo ragazzo perché il cappello fa ombra lo copre un cappello di feltro grigio verde che ha una penna nera però vediamo come abbigliato i suoi indumenti che seguono una moda medievale in effetti ha un mantello bruno pesante sotto si intravede una giubba verde indossa una calzamaglia rossa e ai piedi ha le pulenna delle scarpe di stoffa appuntite dall'altra parte invece c'è una donna che sia con la sua acconciatura con questa capigliatura pettinatura raccolta sia nel suo abito molto elegante di saten azzurro che arriva fino a terra con questa gonna vaporosa piena di pieghe eleganti con una camicia bianca che fuoriesce a sbuffo dalle trinciature dell'abito ci fa capire appunto l'abito e la sua acconciatura che appartiene a un periodo probabilmente molto più vicino al pittore ad aiez perché insisto sull'abito e sui colori perché proprio questi elementi hanno lasciato indurre hanno lasciato percepire questo senso questa interpretazione patriottica in effetti è un misto non è un'unione di passato e presente quindi raccontare il presente attraverso il passato in questo caso medievale è un utilizzo di colori che rinviano alla bandiera della francia e dell'italia per questo motivo questo ragazzo è stato interpretato come il giovane patriota pronto a partire per la guerra sul fianco si intravede l'elsa di un pugnale e sta lì salutando la sua amata forse probabilmente per l'ultima volta non si sa entrambi sono consapevoli del fatto che probabilmente chissà se si vedranno ancora e in effetti questa interpretazione politica del tutto legittima viene accentuata ancora di più enfatizzata ancora di più in altre due versioni che aiez realizza nel 1861 nel 1867 quindi ma adesso dipurando l'opera da queste implicazioni politiche aiez che cosa fa aiez con grande dignità con grande semplicità ci comunica un qualcosa di potente di solenne con questi due corpi che si fondono in un concentrato di potenza implacabile in un'estasi d'amore un ragazzo che spinto dal fuoco della passione prende il volto della sua amata tra le sue mani e lo fa con grande trasporto con grande carica emotiva ma al tempo stesso lo fa con una grande attenzione con un grande senso di protezione e viene ricambiato dalla ragazza che si aggrappa alla alla sua spalla noi non sappiamo chi sono questi due giovani ma percepiamo che vivono una situazione non tranquilla non serena che hanno poco tempo per declarare il loro amore la loro complicità e questo lo avvertiamo sia dall'atmosfera umbratile fosca che li avvolge e poi anche dalle pose in particolare del ragazzo che non è una posa serena stabile ma il piede sul gradino gli dona una posa instabile una posa di fortuna in bilico però però lo aiuta a celarsi a mascherarsi quasi come se lui volesse nascondersi da occhi inopportuni perché il suo intento è quello di mostrarsi soltanto alla sua amata ma in che modo perché forse anche lei ha un po di difficoltà nel vedere il suo volto perché lui vuole mostrarsi non con le sue fattezze esteriori ma con la sua intimità con la sua passione con la sua interiorità nel guardare questo dipinto noi non possiamo far altro che cominciare a viaggiare anche noi con la mente entrare anche noi in questo in questa atmosfera sognante medievale forse per questo haietz ha introdotto una figura misteriosa nella penombra oltre l'arco ogivale in fondo a una scalinata che probabilmente altro non è che la domestica la domestica della ragazza forse ci troviamo nel cortile del suo palazzo forse lei era affacciata alla bifora la finestra aspettando trepidante l'arrivo del suo amante e quindi fa le scale a 4 a 4 per andarlo ad incontrare ad abbracciare per andarlo a viverlo per pochi minuti per pochi attimi e quindi questa figura misteriosa è lì a controllare la situazione ad avvertirli se arriva qualcuno è una sorta di guardiana di un incontro fugace però questa figura ci riconduce ci distoglie da questa atmosfera sognante ci riconduce alla realtà riconduce alla quotidianità dei fatti con i quali questi giovani devono fare i conti e in questa situazione inquieta in questo connubio di dolcezza ed impeto il ragazzo rasserena tranquillizza la sua amata baciandola un incrocio un incontro di labbra che qualcosa di semplice di visto ma che Hayez ce lo propone con una grande possenza con una grande potenza e la ragazza assorbe tutta questa carica emotiva tutta questa energia nel suo corpo che diventa un corpo elegante sinuoso e il tutto avviene nel rigoroso e sacro silenzio quello che vediamo è una preghiera solenne è una promessa eterna grazie a tutti